Ehi, bel tipo, io non ti conosco. È un problema questo? Oh, sì, è un problema. Perché? Perché questa è la mia festa, capito? A proposito, inizia a fare caldo qui, eh? No, davvero? Sì, vero, tutto vero. Sì, tipo la vera storia di sette strane in una casa, sai? Vuoi la verità? Sì, andiamo, sparo. Ecco la verità. Cosa? Avete sentito? Era abbastanza vero. Che cosa faccio? Colpisci! Fa più male di quando ha colpito me! Combatti! 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 Sì! 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 Oddio, sei un duro bello, mi sei giaciuto! Avete visto? È stato fantastico! Oh, cazzo. Hai un... Quando mi hai infilzato? È fantastico! Sì! E a giusti! Sì! Sì!